a lavorare se posso venire pure io tu qua devi restare che la tua madre non già la può fare con due picci ridi non come l'hanno chiesto mi dicevo no non voglio che partite senza di me io li odio nonna ci sono a zia qui nella sua marina ti resta che non voglio che hai niente a che fare io ci voglio bene e tu non si mi pare niente tu non ti azzardare tua nonna è brava se a certe volte mi arrabbio è perché un munno è cattivo e io voglio che tu ti fai una pelle dura che t'ha fatto? voglio che diventi una donna importante una di quelle che fanno grandi cose ma per chi ti chiamano così? donna maria la parola donna prima del nome vuol dire che la ti rispettano certi non se lo meritano altri no io quando signora Anne pure così voglio essere chiamata donna lucia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti